buongiorno allora oggi vi parlo di un nuovo studio carino pubblicato su nature metabolism dal gruppo di anna valdez e lo studio è stato condotto su all'incirca mille persone senza diabete adulti che vivono in inghilterra esti uniti seguiti per due settimane con un monitor costante della glicemia c'è un apparecchio che oggi usano i diabetici che permette di misurare la glicemia costantemente quindi è molto più accurata di altri come vedete le persone hanno consumato qui iniziano a consumare dove c'è la stellina il cibo e c'è un aumento della glicemia normale picca intorno a un'ora e poi c'è un calo della glicemia che tra le tre le quattro ore diventa addirittura inferiore c'è un calo un'ipoglicemia reattiva post-prandiale vedete e i risultati di questo studio dimostrano che il livello di calo di ipoglicemia reattiva è il vero fattore che predice l'appetito la fame post-prandiale quindi non è il picco glicemico o l'aria sotto la curva dell'aumento della glicemia ma è il livello di ipoglicemia reattiva che correla fortemente con l'appetito con la durata cioè le persone che hanno un maggiore una maggiore ipoglicemia reattiva consumano il cibo prima di 24 minuti e l'introito calorico delle 24 ore è più alto di circa 300 calorie in coloro che hanno il maggiore picco ipoglicemico in questo studio naturalmente gli stessi autori ammettono che questa correlazione forte tra ipoglicemia post-prandiale reattiva e l'appetito la fame che ne consegue è uno dei fattori è uno dei tanti fattori che probabilmente fattori sociali comportamentali fisiologici psicologici l'attività fisica eseguita nei giorni precedenti quanto bene abbiamo dormito e tanti altri fattori sono importanti nel terminare la sensazione di fame in risposta al consumo di cibo però chiaramente questo studio perché la significativa è importante ci dimostra che maggiore è il picco glicemico quindi più alto è l'indice glicemico dei cibi che causa un aumento della glicemia post-prandiale maggiore poi la risposta reattiva del dell'insulina del pancreas che produce insulina e fa sì che c'è un calo importante che diventa addirittura negativo c'è una ipoglicemia reattiva e questo poi determina la probabilità di avere più appetito di mangiare prima quindi di dover per accontentare questo desiderio di questa fame le persone mangiano prima e mangiano di più ecco ritengo che questo sia un stilo molto carino molto interessante e come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato chi non mi conoscesse può trovare qui sia su wikipedia che su google scholar informazioni su cosa faccio sul mio lavoro sulla mia carriera ci sono alcuni lavori scientifici molto tecnici pubblicati su science su cell che riassumono il mio lavoro e poi un libro che questo libro il path of longevity che invece è un libro scritto per persone non tecniche cioè non con un linguaggio più 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 alla portata di persone che non sono scienziati che non sono esperti del campo grazie per avermi ascoltato alla prossima